Il cristianesimo e le grandi trasformazioni del mondo globale. Se ne è discusso a inizio settimana all'interno dei martedì di San Domenico insieme ad Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio e professore di storia contemporanea all'Università di Bari e di Roma, nonché già ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione dal novembre 2011 ad aprile 2013. Globalizzazione vuol dire che sono cadute le pareti, che si sono abbassati i muri e i confini e che oggi ci troviamo tutti vicini e sentiamo un terribile bisogno di distinguerci e di proteggerci dagli altri. C'è una prossimità da rinventare con gli altri, questo è il grande lavoro, rinventare la prossimità e costruire un mondo in cui si sia tutti più prossimi. Nel mondo globale solo uomini e donne capaci di assumere autenticamente e profondamente un percorso spirituale, ha detto Riccardi nel suo intervento, potranno aprirsi agli altri realizzando una civiltà del vivere insieme. Riparare e ricucire è infatti un'arte antica, ha concluso, che necessita di pazienza e quotidianità.